benvenuti in questo nuovo video teoria ma soprattutto approfondimento per quello che è uno dei più grandi personaggi di One Piece, uno dei più grandi, Villain per Rufy, uno dei più grandi nemici, parlo di Don Quixote, Doflamingo e suo fratello Rosinante Corazon perché entrambi sono le due facce di Joker. Però prima di iniziare questo video ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube se non siete ancora i nostri follower, di lasciare un like e di attivare la campanella One Piece Massimo Esperto Italia. Inoltre date inocchiata la nostra playlist video teorie di approfondimenti dove trovate sempre nuovi video, portiamo a meno mensilmente uno o due video, soprattutto teorie di approfondimenti che sono molto molto interessanti, non per ultimi, gli ultimi che abbiamo fatto due che sono quello là su Aokiji, quello su Denjiro e Kiyoshi Ushimitsu. Siamo arrivati a questa riflessione mettendo insieme tutti gli elementi che accomunano entrambi i fratelli. In primo luogo naturalmente molto importante è l'aspetto, è la risata, il loro modo di fare, il loro passato, quindi l'infanzia e le sofferenze che entrambi hanno dovuto patire. Entrambi infatti hanno subito queste sofferenze così come Joker, penso che tutti quanti lo conosciate. Però adesso passiamo in più nei dettagli all'articolo e oggi vi parlo di due fratelli Don Quixote, o Don Quixote come preferite, anche se volete romanizzare in spagnolo, facendo un riassunto di questi due. Allora Do Flamingo con la sua frase specialissima, i pirati sarebbero il male e la marina rappresenta la giustizia. Bene e male non sono altro che colori su una tela, i cui nomi cambiano di continuo però. Gli bambini infatti non conoscono né la pace e né la guerra e infatti vedono il mondo con degli occhi diversi rispetto agli adulti. Solo chi ha il potere e è al potere possa abilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E proprio in questo luogo ora si trova a metà strada fra le due possibilità. Trionferà la giustizia? Ovvio, dice Do Flamingo, perché sono i vincitori a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa è la frase che dice nella battaglia di Marineford. Don Quixote Do Flamingo in spagnolo, o Don Quixote Do Flamingo, pronunciato in italiano, è uno dei nemici più amati in One Piece. Fino agli avvenimenti di Tres Rosa, Do Flamingo era considerato il re di tale isola, il capitano del clan dei Don Quixote, è un membro della flotta dei Sette. Il suo cognome deriva da Don Quixote della Mancia, poiché in lingua spagnola, vabbè, questo già lo sappiamo, è una storia risaputa, in passato gestiva i traffici di schiavi delle isole Sabaudi ed è questo uno dei motivi per cui è entrato nella flotta dei Sette. Il governo mondiale fingiva di non sapere quello che succedeva nell'arcipelago, permettendogli così di continuare indisturbato alle sue attività criminali. È soprannominato anche il demone celeste e i membri della sua ciurma gli si rivolgono con l'appelativo di Waka Gashira, titolo Yakuza, che vuol dire anche giovane signore. Dal dialogo che ha con Tsuru, il viceammiraglio, dopo la sua sconfitta con Rufi, unito al fatto di essere riuscita ad ingannare il mondo intero, mantenendo tutte le sue dimissioni da membro della flotta dei Sette. Trafalgarò afferma che solo qualcuno del calibro dei narobiti mondiali, però, potrebbe riuscire a fare ciò. Si può vincere la sua enorme influenza sulle efficiente mondiali, quindi, ed è uno dei personaggi più influenti in tutto One Piece. Do Flamingo è un uomo molto alto e magro, muscoloso, ha capelli biondi, indossa una giacca fatta di fiume rosa di fenicottero, da qui proprio Do Flamingo, magliette e pantaloni dai colori sgargianti e scarpe a punta nere. Appare quasi sempre con un ghigno sprezzante stappato in faccia. Porta inoltre un paio di occhiali, cosa rilevante, infatti fino ad adesso non è mai apparsa senza gli occhiali. Inoltre, era presente anche all'esecuzione di gol di Roger. E di lui abbiamo visto l'acchi del re contro Rufi, dell'armatura e il risveglio del suo frutto, potentissimo. Quindi, come diceva Katakuri, arricchendone le caratteristiche, continuiamo un po' a parlare di questo personaggio. Una cosa che a me piace tantissimo, ragazzi, è la sua risata, nervosa quando si mette le mani in faccia, proprio come Joker, no? Fufufufu che dice, mi ricordo la scena contro Rufi Giafort, pallone di muscoli. E cosa sarebbe questa cosa? E Rufi dice, questa è la mia mossa finale, il mio asso nella manica. E vedi il flamingo con quelle vene che gli si stringono in fronte. C'è un personaggio caratterizzato in un modo, a mio modo di vedere, esemplare. Comunque, indubbiamente, uno dei personaggi più complessi dell'intero manga. Ha un carattere fortemente triatale, infatti tutti i suoi modi di fare sono eccentrici ai livelli massimi, no? Ha l'abitudine ad atteggiarsi, giustamente, e ogni volta fa diverse dichiarazioni, affronta qualsiasi tipo di situazione con grande arroganza. Bravo lo flamingo, comunque. E senz'altro il membro più cinico e meno freghista che possiamo aver visto all'interno della flotta di Sette. Lo dimostra anche quando si siede sul tavolo della riunione convocata dal governo mondiale, appoggiando i piedi e cerca di attaccare Briga subito con il grande ammiraglio Sengoku. Da bambino, lo flamingo teneva molto, ma molto, la sua famiglia. In particolare, aveva un fortissimo legame con la madre. Infatti lui, dalla morte di sua madre, rimane completamente distrutto. Aveva molto a cuore anche suo padre e suo fratello. Prima che il padre perdesse, diciamo, questa situazione del titolo nobiliare del governo mondiale, no? Di nobile mondiale, e li costringesse a vivere in povertà e che poi, conseguentemente, causasse la morte di sua moglie, che era la madre di Doffi. Lui lo voleva molto bene. Però dice, a distanzi di anni, viene detto, che lui ha perdonato, dopo la loro morte, sia suo padre che suo fratello. Dopo la loro morte, quindi, diciamo, facilmente, dopo averli uccisi, li perdona. Nonostante la sua grande temerarietà, teme molto un confronto con Kaido, la bestia. Infatti, secondo lui, Kaido possiede una forza tale da poterlo sconfiggere facilmente. Naturalmente, l'abbiamo visto contro la Rufi Ghia, che non ha perduto molto, o ben poco. Rufi, prima dell'allenamento, e ricordatevi, prima dell'allenamento. Doflamingo, comunque molto legato anche ai membri della sua ciurma, che adesso ritiene e ritiene e definisce la sua vera e propria famiglia. Fino a prima che avvenisse la sconfitta per mano di Rufi, Doflamingo, pur facendo parte dell'organizzazione associata al governo mondiale, era comunque il maggior broker del mercato nero del nuovo mondo. Infatti, lui agiva nel mondo malavitoso, proprio con lo pseudonimo di Joker. Lui aveva questi traffici maggiori in cui era implicato, tra cui le armi, spedizioni in varie nazioni che fomentavano le guerre civili, gli smile, anche in questi frutti artificiali, grazie alla creazione di chi ragazzi? Del SAD di Cesar Clown, Gangster Gastino, che poi vendeva anche ai pezzi grossi del nuovo mondo, tra cui sappiamo benissimo il collegamento con Kaido ed Orochi. Infatti poi abbiamo visto a Wano Kuni, che adesso Orochi tratta direttamente con la CP0. Prima di far parte della Forza dei Sette, la sua taglia, che poi è stata congelata, era di 340 milioni. Lo Flamingo sappiamo bene che è uno degli scendenti delle 20 famiglie reali che fondarono all'epoca il governo mondiale e che poi si stabilirono a Mary Joyce, Mary Juarez. La famiglia era proprio la Don Quixote. Poi aveva una grandissima influenza, infatti lui poteva soffrire anche il potere della CP0 e le più alte cariche del governo mondiale. Difatti, se ricordate bene, a Doflamingo fu concesso come nome il Demone Celeste. Benché i Draghi Celesti poi tentarono di ucciderlo inviandogli da Salsini e di soldare più volte, lui è sempre riuscito a cavarsela e continuando a cooperare con i Draghi Celesti. Lui conosce molto bene il tesoro di Mary Joyce e questo fa sì che tutti lo temono molto profondamente. Lui voleva diventare il re del mondo. Ricordatevi, le sue conoscenze dei segreti, a parte quelle di Mary Joyce, in esame, eccetera, e probabilmente lui disse che grazie al potere di Lo, donandogli l'eterna giovinezza, sarebbe diventato lui il re del mondo. Si sarebbe seduto lui su quel famoso trono. Cosa farà adesso Joker? Proviamo a indovinare insieme. Gli dice anche voi cosa ne pensate. Impel Down? Sembra gli mandassero contro degli assassini, ma a proteggerlo c'era il nostro Magellan. Poi dopo qualche capitolo dopo abbiamo visto che in realtà lui stava benone. Quindi lo rivedremo? Lui tornerà? Perché io aspetto Joker, e voi? Dico questo perché se ci rifacciamo ai vari membri della flotta dei sette che si sono susseguiti nel tempo, cosa che ormai è stata abolita, per esempio Crocodile è stato aiutato a essere liberato da Impel Down, però a sua volta poi ha aiutato Rufy, sia lì che a Marineford. Buggy è stato fondamentale in tantissime occasioni. Jinbei addirittura, oramai è un Mugiwara e quindi sarà molto più attivo da Wano Kuni in poi. Da Wano Kuni all'attacco, andrà per le prossime sagge, insieme a Rufy raggiungere l'Houg Tail Raftem. Poi abbiamo Gecko Moria che si è visto a Marineford, ma ora l'abbiamo rivisto insieme a Barba Nera e probabilmente sempre a livello di illazione potremmo vederlo a Wano Kuni, avere un ruolo importante. Naturalmente c'è Boa che ama Rufy follemente e quindi lo aiuterà nelle prossime sagge di venire in qualcosa di fondamentale anche lei per la scarata a Rufy, per farlo diventare poi il re dei pirati, farlo divenire il re dei pirati. Naturalmente abbiamo Lo, vero stratega, il suo legame con Rufy indissolubile sin da Marineford quando l'ha salvato. Poi Lufy ha ricambiato il favore salvandolo e battendo Do Flamingo al suo posto per la vendetta di Corazon. E infine abbiamo Webold e Miwok che vedremo che tipo di situazione svolgeranno, ma soprattutto Do Flamingo. Do Flamingo potrebbe essere fondamentale il suo aiuto, se riuscisse a scappare da Impeldao o qualcuno l'aiutasse a sfuggire, a Mary Joas, perché lui ha queste conoscenze e questo potere nei confronti dei dagli celesti molto importante. Proprio per questo aspettiamo il ritorno di Joker. E ora passiamo all'altra metà, l'altra goccia del Joker, Don Chiyote e Rosinante, Corazon. Il fratello minore di Do Flamingo era un capitano di fregata della marina infiltrato tra i pirati Don Chiyote come alto ufficiale con il nome in codice appunto di Corazon. Rosinante era un uomo molto alto e con i capelli biondi però più lunghi rispetto al suo fratello. E aveva anche tantissime cicatrici sul suo corpo. Diciamo che le due figure erano molto simili a livello di aspetto. Avevano oltre un trucco blu soprattutto sotto l'occhio destro e aveva la bocca e le guance più rosse ma soprattutto la bocca con quella diciamo possiamo chiamare il rossetto alla Joker penso proprio di sì. Indossava questo cappuccio fucsia con due estremità appese ai cuori, la forma del cuore era la carta che gli rappresentava, aveva questi jeans bianchi, un mantello di piume uguale al suo fratello però il suo colore era nero e non rosa come quello del Fenicotto e aveva questa camicia rosa chiaro che aveva sempre dei cuori stampati sopra. Portava con sé anche lui degli occhiali, da bambino rosinante, aveva i capelli spettinati, copriva sempre gli occhi e indossava abiti di alta nobiltà, essendo un nobile mondiale. Capo che poi con il tempo si sono sciuvati perché ha dovuto sopportare le sofferenze del mondo perdendo la sua carica. Ha sofferto molte torture per mano delle persone che odiavano i nobili mondiali, essendo loro ex nobili venivano odiati, insieme a tantissime battaglie che ha affrontato, insieme anche a suo fratello, il suo colpo è stato segnato da questo passato. Rosinante fingeva di essere muto a causa di un evento che l'ha traumatizzato da piccolo e a detta di diamante sembrava anche molto sbadato e stupido, cosa che non affatto era, era molto intelligente, molto persificace e molto abile, inserendosi nella ciuma di Doflamingo. Tuttavia questa era solo la facciata, perché lui invece era molto intelligente e sapeva parlare molto bene. Fingeva anche di odiare i bambini, cosa molto importante. La motivazione di questo atteggiamento è che cercava a impedire che nella ciuma di suo fratello potesse crescere troppo in numero prendendo dei giovani a far sì che entrassero a fare parte di questa ciuma. In realtà poi si dimostra molto indulgente contro Farga di Waterloo, inoltre appena scopre Galladini il nome, cerca in tutti i modi di convincere ad abbandonare la ciuma di Doffi, di suo fratello. Questo bambino che lui l'ha cresciuto quasi come un figlio e cerca in tutti i modi, quando scopre della malattia, un dottore per questa sindrome del piombo ambrato. Quindi una nata ricerca e Rosinante aveva ereditato soprattutto l'eredità della gentilezza del padre, che era un punto favorevole, e riteneva suo fratello Doflamingo un vero e proprio demonio. In quanto fratello minore di Doflamingo, sentiva in suo cuore, al suo dovere, di fermare questo uomo fole, la sua follia, e decise quindi di indagare su di lui e di entrare nei ranghi di questa ciuma, fingendosi appunto muto. Doflamingo poi uccise Rosinante nel momento in cui riuscì a scoprire il tradimento. Come alto ufficiale, Corazon occupava il trono dei cuori, che lo teneva come combattente di aver raggiunto un alto grado nei ranghi di Doflamingo. Nella ciuma era superiore a tutti gli altri dell'equipaggio e riparicato con gli altri tri ufficiali che conosciamo bene, Pika, Diamante e Trebolo. Rosinante era riuscita ad ingannare tutto l'equipaggio anche grazie al suo frutto, che gli permetteva di fare cose molto importanti, soprattutto spiarli. Il frutto era il taci-taci nomi, categoria paramiscia. Chiunque all'interno del suo campo, tipo le room di Loh, poteva, non poteva sentire ciò che c'era all'esterno, ma solo quello che c'era all'interno e viceversa. Il nome Rosinante poi è ispirato a quello di Rosinante, il cavallo di Don Quixote, del romanzo omonimo Don Quixote della Mancia. Comunque ha fatto delle caratteristiche che sono entrambi sbadati, poi Corazon in spagnolo significa proprio cuore, e corrisponde infatti a uno dei quattro semi delle carte francesi della ciuma di Joker. I tatuaggi sulla sua bocca riguardano proprio quelle di Joker della DC Comics, in La Nemesis di Batman. Somiglia anche molto all'attore che fece Joker, ma non solo quello, ma anche a quello che fece il corpo. Queste sono aggiunte in più, tipo Alex nel film di Arancia Meccanica per quanto riguarda il tatuaggio. La cosa interessante è questa, sentite, il codice da Marini di Rosinante era 01746, che se lo leggiamo al contrario con lettere esce proprio Rosinante. Comunque una cosa importante, sia Doflamingo sia Doffi che Corazon hanno avuto un legame e un incontro tra loro e i DS Drake. Questa loro storia alla fine è molto importante. Noi pensiamo che siano due gocce della stessa metà, le due facce della stessa medaglia che Oda ha diviso magistralmente in due personaggi che nonostante lo stesso passato uguale, medesimo, hanno scelto però due strade opposte. A chi sa decidere quale sia giusta e quale sia sbagliata? Beh, solo il tempo potrà darci questa risposta. Voi provate a dircela nei commenti, secondo il vostro giudizio. Il video è finito, ricordatevi di passare i nostri link in descrizione. One Piece Massimo Esperto Italia è la nostra pagina Facebook dove trattiamo tutto quello che riguarda One Piece. One Piece Massimo Esperto e tanto altro per le recensioni di tutti gli altri manga, anime, film di aminazione e tutto quello che vi piace. Il gruppo Facebook, il nostro canale Telegram perché YouTube fa un po' a bizzeppe con queste notifiche per il link delle live e dei video e improvvisamente non vi avvisa e quindi lì trovate il link diretto. È il nostro account Instagram. Non vi dimenticate le nostre collaborazioni come Il Guard Italia e Anime Tubers Assemble. Spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto da Doflamingo Corazon e da Joker. Ciao dal Capitano dei Massimi Esperti. E ricordatevi bene che c'è chi è filo e chi è marionetta.